Ed ora vi mostriamo un'immagine che è diventata il simbolo della fuga dei civili dalla guta orientale, una regione devastata dalla guerra civile. La foto ritrae un padre che porta il suo bimbo dentro una valigia, diventata una culla d'emergenza per sfuggire ai combattimenti. Alle porte della capitale Damasco manca tutto, dall'acqua al cibo alle medicina. E la cronaca adesso ci riporta a Roma, dove questo pomeriggio...